Ben ritrovati, tre spettatori di Cilento Channel, per un nuovo appuntamento dedicato alla rubrica settimanale Nutrizione e benessere, curata dal dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Oggi parleremo di un pesce, del pagello. Allora, perché mangiare il pagello e quali le proprietà? Sì, allora, il pagello è un pesce tipico, insomma, dei nostri mari, un po' in generale di tutto il Mediterraneo. È caratterizzato da questo colore rosa su tutto il dorso, che poi diventa un colore più argentato, quasi bianco, sul ventre. Lo possiamo considerare un pesce povero, diciamo economico, però con delle ottime qualità nutrizionali, seppur non appartiene però alla categoria dei pesci azzurri. 100 grammi apportano all'incirca un centinaio di calorie, sono soprattutto derivanti da proteine ad elevato valore biologico, quindi ricche di amminoacidi essenziali, ed acidi grassi insaturi e polinsaturi. Ovviamente contiene anche sali minerali, prodotto calcio, ferro, magnesio, iodio, vitamine del gruppo B e vitamina D. Quindi quali sono le proprietà? Sicuramente può essere inserito con una certa facilità all'interno di diete, quindi per chi deve perdere peso. Contiene acidi grassi insaturi e polinsaturi, quindi è consigliato per chi soffre di iperlipidemia, di ipertensione. E dato questo ottimo apporto di sali minerali, ma soprattutto di proteine, è anche consigliato per chi soffre, per esempio, di malnutrizione, di malassorbimento. Ma soprattutto le carni del pagello sono molto digeribili, per cui sono consigliati per tutti coloro che hanno dei disturbi gastrici. È consigliato anche alle donne in gravidanza, in allattamento, e poi contiene vitamina D, che quindi è fondamentale per la struttura delle ossea, e lo iodio, perché è importante per il buon funzionamento della tiroide. E come lo possiamo preparare in cucina per non perdere le proprietà? Sì, allora si presta bene alla cottura al forno, anche grigliato, anche al cartoccio, considerando che comunque è una porzione media, siamo intorno ai 140-150 grammi. Ovviamente va poi consumato all'interno di quella che è la frequenza consigliata a settimana per quanto riguarda il pesce, quindi tra le 3 e le 4 volte il pagello, insomma, ben si inserisce in questa frequenza settimanale. Ci sono controindicazioni per chi ne fa un consumo eccessivo? Allora, un consumo eccessivo no, se non magari chi ha particolari disturbi di stomaco, magari una porzione veramente eccessiva, può essere un problema. Altre controindicazioni riguardano, ad esempio, chi soffre di uricemia alta, perché contiene un ottimo contenuto di purine, chi è affetto da fenilchetonuria, perché contiene feninalanina, e anche chi soffre o ha la tendenza alla calcolosi renale, derivante da acido urico. Grazie dottore, grazie anche ai nostri amici a casa che ci seguono ogni settimana. L'appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere torna la prossima settimana. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.